Noi abbiamo dei candidati, abbiamo delle persone capaci dentro il nostro partito, non è che Tarantino surclassa tutti quelli che abbiamo, noi abbiamo persone capaci nel nostro partito, però da soli, dai nostri sondaggi, riteniamo che non sfondano, io leggo qua da soli ciò che mi hanno dato stamattina, ma così lo dico, abbiamo Tarantino al 27%, abbiamo La Luce non è il 19,9%, abbiamo Grasso al 13,6%, abbiamo Zappacosta al 10,58%, questi sono i sondaggi che mi hanno dato questa mattina, oggi Tarantino avanti a tutti, questo è stato fatto, lo dico subito per non dirò mai chi è, da una grossa società, una grossa società che si è levata all'usfizio e fa questi sondaggi. Volevo dirle che se il sondaggio che lei ha citato poco fa fosse Vangelo, se fosse, non lo so perché i sondaggi sono i sondaggi, il ballottaggio sarebbe centrosinistra 5 stelle. Beh, il centrodestra è qui, vengo all'analita, probabilmente secondo me, può darsi che sia, sarà il ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra.